Stiamo in votazione dell'envenimento alla proposta di preparazione del numero 1 presentato dai consiglieri Pincinato e Peresò. Chiara parte le votazioni. Chiara parte le votazioni. Passiamo adesso alle votazioni dell'envenimento numero 2 presentato dai consiglieri Delben, Medicini, Amarelli, Rossi, Zanorini, Trasuzzo e Peresò. Chiara parte le votazioni. Chiara parte le votazioni. Presenti per la Cigari, votanti per la Cigari, 18, 18, 12, 23, 0, l'envenimento numero 2 viene rispito. Passiamo adesso alla votazione dell'envenimento numero 3 presentato dai consiglieri Amarelli, Delben, Medicini, Pazut, Rossi, e Zanorini. Chiara parte le votazioni. Chiara parte le votazioni. Chiara parte le votazioni. Presenti 35, votanti 35, 18, 18, 12, 11, 12, 23, 1, l'envenimento numero 3 viene rispito. Facciamo adesso all'envenimento numero 4 presentato dagli stessi firmatari, dichiaro a perdere le votazioni. Dichiaro a perdere le votazioni. Dichiaro a chiude le votazioni. Presenti 35, votanti 35, maggioranza 18, 4, 12, 1, 13, 1, 21, l'envenimento numero 4 viene rispito. Emento numero 5 Presentato dai stessi Contraspitatori precedenti Dichiaro a perdere la votazione Dichiaro a piegare la votazione 335, 835, 818, 819, 12, 12, 23 Pinti nessuno Emento numero 5 viene respinto Emento numero 6 Gli stessi presentatori del precedente dichiaro a perdere le votazioni dichiaro a chiuso le votazioni per 25 per 25 per 18 per 12 per 13 per 2 di nessuno l'emendamento numero 7 è stato sempre il materiale precedente dichiaro a perdere le votazioni dichiaro a chiuso le votazioni presentato dagli stessi firmatari dichiaro a perdere le votazioni dichiaro a chiuso le votazioni presentato dagli stessi firmatari di precedente dichiaro a perdere le votazioni dichiaro a chiuso le votazioni presentato dagli stessi firmatari presentato dagli stessi firmatari Grazie a tutti. Votazione, la delibera numero 2, indirizzi generali tra le nomi delle destinazioni agrocentali, le comune, le persone e le aziende, le istituzioni di competenza del centro. Chiaro a parte la votazione. Dichiaro a chiuso la votazione. Dichiaro a parte la votazione.